Un uomo tutto ad un pezzo, un uomo veramente, tutt'uno con se stesso e con il mondo intero. In questo momento non vado neanche a Palermo che vado a fare, sembra meglio presentarsi, sempre, ve lo dico per esperienza. Per esperienza nel senso che mia madre ha avvocato, quindi insomma ne ho viste di queste cose, tu ti presenti direttamente al processo, hai anche una possibilità in più magari di passare a liscia. E non che non ti presenti, sembra che c'hai la cosa di padre, che hai qualcosa da nascondere, figa. Comunque, a bestia a voi, in alto insieme per i cento mila iscritti e sotto attivate la campanella, qua sotto per ogni aggiornamento di cuore grazie a ognuno di voi, con forza e vigore. Mi raccomando, Hulk Hogan, Hollywood Hulk Hogan, brother. No, adesso serve, devo ancora prendere un caffè, lo ammetto che mi sono svegliato solamente mezz'ora fa, ho detto, cacchio ti svegli tardi, mi sono svegliato l'undici e mezza, e sì, è perché comunque qua sono le fersi di settembre, ci stiamo divertendo, sono gli ultimi scampoli dell'estate e soprattutto c'è tanto da lavorare. Ora, aia, adesso io lo sto prendendo un po' così, ma là, lo sto buttando un po' in cagliata per un semplice motivo, perché voi pensate sul serio che Salvini, anche se venga condannato per il caso Open Arms, chiaramente, quindi non si è presentato a Palermo lì, però c'è andato altre volte, al caso Open Arms, secondo voi, come Totti che ha patteggiato comunque, andrà davvero in galera? Ma chi è andrà in galera? Cioè, pure se verrà condannato. Allora, fa specie che per aver bloccato per giorni, sequestrato, addirittura i PM, dicono, guardi che, sì, la protezione del nostro Stato, però viene magari più tardi anche il trattamento di determinate persone, la dignità e la libertà di alcuni elementi. Sì, può essere anche vero, però addirittura sei anni dove nessuno alla fine si è fatto male. Mi sembra una mega stronzata, perché questa non è una condanna ufficiale, va là, è una richiesta da parte dei PM contro di lui. Ci sono varie relazioni, viene un sostegno da parte del centrodestra, e invece di centrodestra che muto muto guarda, però chiaramente qualche eurodeputato, qualche eurodeputato, avete capito magari quale eurodeputato, eh, non vede l'ora di vederlo dietro e sbarre. Cioè, questo non è politica. Qui stiamo andando sul personale, ok? Quindi, se tu auguri il peggio a un politico, cioè addirittura sei anni di reclusione che ci deve stare, tu non stai bene di testa. E sono soldi nostri quelli che arrivano le tasche, anche le tasche di Salvini. Ma questo non è il modo giusto di far politica. Vabbè, comunque, tornando a Salvini, sei anni la richiesta di PM, ovviamente, mi auguro per lui che non succeda nulla, va là, ma c'è tanta gente, e ci sono tanti politici, che non vedono l'ora davvero di vederlo dietro e sbarre. Io personalmente non auguro mai il peggio a nessuno. Ditemi la vostra nei commenti, ci vediamo tra poco per ulteriori aggiornamenti. Sei anni di carcere. Sare la gente che ha fatto fuori delle persone, che ha ammazzato già un anno, è già fuori.